Come essere chiesa nel terzo millennio è la domanda la quale la chiesa stessa a tutti i livelli cercherà di dare una risposta a partire dalle prossime settimane per un percorso ambizioso e necessario della durata di cinque anni nei quali ci sarà spazio per confronto e crescita un cammino chiesto dal Santo Padre a tutte le diocesi italiane che inizierà a Verona domenica 17 ottobre con una celebrazione di avvio abbiamo cercato di capire la cornice di senso dove si inserisce questo percorso La cornice di senso è quello di cercare di scoprire quali sono i segni della presenza di Dio nella storia di questo tempo in fondo siamo dentro un cambiamento d'epoca di cui tutti noi facciamo esperienza che il Papa ci dice spesso un cambiamento d'epoca che sta creando una frattura molto grande nella chiesa cioè le parole, il senso, l'annuncio della fede riesce difficoltosamente a toccare la vita noi lo vediamo spesso nelle nostre parrocchie, i ragazzi che vengono ascoltano i contenuti ma poi a un certo punto se ne vanno, le persone che non sono più toccate profondamente dal senso della fede ecco questa difficoltà ha creato una frattura è giunto il tempo per ritessere, ricucire nelle nostre comunità il senso di comunità e per ritessere un po' la speranza perché dopo il Covid ovviamente la cosa è diventata ancora più forte non si tratta di un sinodo come evento normato volto a produrre un documento ma di un processo vero e proprio di evangelizzazione i Vescovi celebrano un sinodo di Vescovi ed è lo strumento che Papa Paolo VI inaugurò dopo il Concilio Vaticano II per continuare l'esperienza di collegialità del Concilio con i Vescovi ma il Papa chiede che questo sinodo abbia un'esperienza sinodale a partire dalle comunità da piccoli gruppi, quindi non è un sinodo calato dall'alto che costituisce delle assemblee che discute dei temi e che poi arriva a un documento questo è un cammino sinodale, cioè piccoli gruppi che si mettono in ascolto dell'azione dello spirito è come dire, la volontà forte di ascoltare il popolo di Dio, tutto il popolo di Dio non solo i Vescovi, i preti, i cardinali l'obiettivo è proprio quello di sentire anche la gente comune in tutti gli ambienti perché sia data a tutti la possibilità, in quanto battezzati di mettere in movimento lo spirito ricevuto e poter dire cosa il Signore ispira ciascuno